Un saluto a tutti, oggi siamo ospiti a casa di Franca, Franca Valerio, presidente dell'associazione di Ingo. Noi Franca la conosciamo da circa 20 anni e per noi è importante essere qui oggi per fare questa chiacchierata con lei, perché Franca è una persona che ha accompagnato anche il nostro essere animalisti a Pordenone in tutti questi anni, siamo sempre stati in contatto con lei, rappresenta un po' la parte storica dell'animalismo nella nostra città, lei è presidente dell'associazione di Ingo, si occupa di un rifugio, il rifugio di Ingo appunto, di cui poi vorremmo parlare con lei. Io Franca vorrei iniziare questa chiacchierata con te proprio dalle basi. Io vorrei che tu ci raccontassi come hai iniziato questo percorso che va avanti da così tanti anni qui e soprattutto tutto quello che tu stai facendo, come ha avuto origine, come tu ti sei avvicinata al rispetto e all'amore per gli animali che da sempre ti contraddistingue. Diciamo che è da iniziare da molto lontano e che io sia un animalista io credo dalla nascita perché avevo il papà cacciatore e quando sono stata sui quattro anni lui aveva già smesso di fare il cacciatore proprio perché io ero così. Poi alle elementari ho avuto una maestra che nel momento che si faceva la ricreazione invece di giocare avevamo una colonia di gatti randaggi a Portogruaro questo, quindi noi portavamo gli avanzi da casa e si dava, si acudiva a questi animali e poi avevamo un'aiuola di fiori. Quindi questa maestra ci ha insegnato il rispetto, l'amore per gli animali e anche l'amore per i fiori. Diciamo che tutte noi di quella classe siamo venute su così, animaliste già quella volta, solo che erano anni, sì perché erano gli anni 50 e quindi insomma non era semplice, io raccoglievo tutto quello che trovavo e portavo a casa e quindi tutta la vita mio papà è andato a distribuire animali ai parenti, cioè gli ho fatto fare una vita anche ai miei genitori, sì non semplice per questa che non è una passione, è una sensibilità questa diciamo, sì. Va beh insomma io sono nata così, poi ho sempre avuto animali tutta la vita e poi mi sono sposata, sono venuta a Pordenone e ho seguito diciamo i figli. Quando i figli erano grandi che insomma si arrangiavano da soli e con il mio lavoro appunto andando come infermiera a domicilio ho scoperto le colonie dei gatti randaggi nella città di Pordenone. Diciamo che ho iniziato con Via Rotate che è vicino a casa mia e poi Piazza Costantini, mitica Piazza Costantini e lì ho iniziato a seguire queste colonie feline. Diciamo che seguendo queste colonie feline spesso c'erano degli animali ammalati fra queste colonie quindi avevo bisogno di un posto dove poterli tenere diciamo anche se non proprio al caldo ma insomma protetti quindi mi è stata data dal comune un pezzettino di via ungaresca dove adesso c'è la protezione civile però eravamo troppo vicini alle case quindi sì non è che andava molto bene questa cosa quindi ho deciso quando sono andata in pensione di usare la mia liquidazione per comprare un terreno e fare un rifugio quello che ho potuto con le mie risorse quindi rifugio che abbiamo in comina. Diciamo che non siamo mai riusciti a metterci a norma perché sì con i miei soldi insomma quello ho potuto fare. In ogni caso da quegli anni lì dal 92 circa noi abbiamo salvato almeno 5500 gatti dopo ci sono anche cani e altri animali perché la dingo come da statuto si occupa di tutti gli animali in difficoltà. Comunque abbiamo salvato tutti questi animali questi gatti e attualmente abbiamo 123 gatti quindi abbiamo dato in adozione un bel po' di gatti insomma e abbiamo aiutato credo il randagismo della città e anche della provincia. Franca quindi diciamo la dingo da tanti anni ormai è in comina abbiamo detto ecco dal 2000 in un'area che il cui terreno poi l'hai acquistato tu come hai appena detto con la tua liquidazione prima era in via ungaresca. Che cosa è successo esattamente durante l'amministrazione Basini che ti ha portato proprio ad andare via da via ungaresca perché comunque era un terreno se ricordo bene che era stato dato a voi incomodato dal comune. Poi a un certo punto qualcosa è cambiato e tra l'altro erano gli anni in cui anche noi stavamo facendo delle piccole battaglie molto molto più piccole ovviamente della tua proprio diciamo scontrandoci con l'amministrazione di allora quindi abbiamo un po' vissuto anche la tua storia indirettamente però vorrei che ce ne raccontassi un po' tu in dettaglio. Allora in origine i gatti che che io avevo diciamo la grossa colonia era all'area San Carlo dall'area San Carlo l'amministrazione Pasini ci ha spostato al San Valentino. Poi l'area San Valentino era da fare un parco quindi siamo stati spostati in via ungaresca certamente che non era un trasloco di una casa era un trasloco di animali e ogni volta ne abbiamo persi e non pochi. In via ungaresca poi c'è stata una raccolta di firme dei dei vicini perché eravamo troppo vicini di sì vicino alle abitazioni io lo avevo anche detto al sindaco che eravamo troppo vicino alle abitazioni che era da individuare un'altra area ma non sono stata ascoltata e così ho deciso bene con la mia liquidazione mi compro un'area lontana dalle case perché la prima casa di dove noi siamo verso la via maestra vecchia e a 700 metri quindi non disturbiamo nessuno. Questa è la cosa insomma che ci è successa con l'amministrazione Pasini ci sono state delle lotte delle vabbè ho risolto così ma non ho risolto perché 28 giorni dopo che siamo andati lì in via bassa del Cuc mi è arrivata la forestale e sono stata denunciata perché avevo le roulotte d'altra parte cosa potevo mettere non avendo la concessione edilizia per fare qualcosa ho messo delle roulotte su ruote quindi sono stata denunciata per le roulotte e lì ho avuto dieci anni di processi ho avuto un processo al tar che ci hanno dato che ci ha dato ragione a metà diciamo il tar invece il penale l'ho vinto e ho avuto l'avvocato Longo che mi ha difeso perché diciamo il giudice ha chiesto ma perché c'erano tra le persone che hanno testimoniato c'era ad esempio l'ex assessore Zanolin che mi ricordo che ha detto se la dingo non ci fosse bisognerebbe inventarla sì quindi noi poi c'era il tenente forte e quindi il PM gli ha detto ma non ho ben capito da una parte voi denunciate la dingo la signora Valerio dall'altra con una carta chiedete alla signora Valerio di prendere i gatti quindi qua non si capisce sì e in effetti insomma lì ho vinto il processo penale poi è stato beh dopo insomma è finita l'amministrazione Pasini e dopo è cambiato tutto perché con l'amministrazione Bolzonello il sindaco Bolzonello ha cercato solo di aiutarci quindi siamo riusciti a far passare quell'area non più come agricola ma per gattile e si è impegnato per poter fare proprio un gattile cioè di essere a norma diciamo e adesso sì è stato fatto ma diciamo a metà perché adesso manca ancora l'ambulatorio io mi sono fatta espropriare di un pezzo di terreno proprio per fare questo però diciamo che a tutt'oggi è tutto bloccato la casetta dove sarà diciamo il dei hospital è chiusa l'ambulatorio non vediamo che inizi e quindi noi stiamo andando avanti con il solito sistema e arriviamo alle ultime vicende che sono di agosto del 2013 e la Dingo ha avuto un'ispezione mandata sì noi sappiamo anche da chi insomma comunque c'è stata questa ispezione con il veterinario dell'ASL un ispettore di igiene e secondo loro hanno trovato di tutto e di più allora era il 7 agosto certamente che qualche gatto magari aveva qualche pulce ma sfido chiunque il 7 agosto che nessun animale abbia le pulci ecco hanno detto che erano ammassati che le roulotte non vanno bene perché non sono igienicamente pulibili ma io non credo proprio ci vivono gli umani nelle roulotte non vedo perché non possa vivere un gatto e quindi mi è stato proibito di prendere di non prendere mai più diciamo gatti allora io credo che avrei messo su un'associazione di filatelica se non dovevo prendere più gatti perché naturalmente i gatti che io ho trovato fuori li ho presi su perché è un abbandono questo cioè omissione di soccorso anche perché la legge lo prevede adesso che bisogna soccorrerli questi animali diciamo che noi nell'anno abbiamo 120 130 abbandoni e li diamo quasi tutti in adozione diciamo che i domestici vanno tutti adottati rimane qualche selvatico quest'anno sono rimasti 20 gatti cioè diciamo del 2013 e su mi pare 143 abbandoni una cosa così ci sono rimasti 20 gatti quindi abbiamo fatto credo un bel lavoro e io mi aggancio a quello che hai appena detto proprio di abbandoni perché chiaramente come hai anche già spiegato non è la vostra non è certo né un circolo del bridge né un'associazione filatelica voi vi occupate di randagismo di tutela degli anni di animali d'affezione e in particolare di gatti e lo fate tra l'altro dando un servizio alla comunità e in tutti questi anni sia in via bassa del cook che dove eravate prima quindi via guaresca e così via ve ne sono capitate veramente tante perché quello che io vorrei che chi vede il video capisse e che la gente capisse che voi vi trovate in una situazione in cui praticamente quasi ogni giorno durante soprattutto la stagione degli abbandoni e fuori dal vostro rifugio e trovate casi di di gatti in scatoloni abbandonati lì nelle buste magari anche cuccioli di pochi giorni con le madri o anche senza le madri ci sono casistiche veramente fra le più disparate e tu ne hai viste di tutti i colori ecco io vorrei magari che tu ci parlassi se vuoi di dei casi che ti hanno toccato di più sono tutti animali a cui poi si dà il cuore e ai quali ci si affeziona però magari raccontandoci delle storie fra quelle più emblematiche che hai ancora magari oggi a rifugio questo forse ci può aiutare a capire il tipo di lavoro che è molto delicato che voi svolgete lì a rifugio e tra i casi particolari cioè i casi particolari sono tanti diciamo che intanto cominciano ad abbandonarsi verso fine marzo primi aprile i gattini appena nati cioè le gatte partoriscono e loro li buttano sulle immondizie ecco questo è allora diciamo questi vengono portati tutti a casa nostra perché è logico che per accudirli bisogna che ce li portiamo a casa che li allattiamo e l'alta l'alta mortalità dei gatti appunto che che sono la dingo così nell'anno sono proprio tra questi cuccioli perché spesso non riusciamo a salvarli l'anno scorso ad esempio è stato è stata una primavera un po' fredda quindi li trovavano stecchiti in parte alle immondizie tutti si sono dati da fare a portare gatti alla dingo la polizia i carabinieri la guardia di finanza i vigili tutti anche con una carta di accompagnamento di alcuni comuni e altri no certamente che quando ci troviamo di fronte a questi casi cosa fai li prendi perché poi la gente se sono piccoli piccoli non sanno allevarli bisogna saperli allevare e dopo ci sono anche gatti maltrattati perché abbiamo avuto dei gatti che sono stati messi dentro nella vernice dei gatti che sono stati legati con i fili di ferro e di tutto e di più diciamo e anche animali incidentati adesso per gli animali incidentati c'è un servizio che vengono raccolti con il cino vigile vanno giù ai ai due canili diciamo ma prima arrivava tutto alla dingo inoltre non è che andavano le istituzioni a prenderli ma eravamo noi ed ero soprattutto io che andavo a prendere questi gatti incidentati abbiamo fatto tutto questo per sortire cosa che abbiamo avuto solo critiche l'asl si è fatta viva solo nel 2013 non abbiamo mai visto i veterinari nessuno solo per farci le critiche basta io con i miei soldi e le nostre risorse questo ho potuto fare di più non posso fare non posso certo come loro hanno detto che le roulotte sono datate non posso certo cambiarle posso migliorarle magari dove sono rovinate il pavimento il rivestimento delle pareti e mettere a posto io più di questo non posso fare anche perché l'amministrazione comunale mi ha dimezzato il il contributo annuale quindi di più io non penso di poter fare perché con 2500 euro io dovrei mantenere che l'anno scorso solo di abbandoni di pordenone sono stati 88 senza quelli che erano già al rifugio quindi non credo proprio che noi riusciamo ad alimentare e curare questi animali insomma nei dovuti modi abbiamo speso mi sembra l'anno scorso circa sui 7 8 mila euro di medicinali solo di medicinali comunque se noi abbiamo le nostre abbiamo fatto le nostre i nostri conteggi ed è stata una spesa esorbitante anche l'anno scorso che naturalmente non riusciamo con le offerte e con i contributi del comune di pordenone e in piccola parte di altri quattro ma delle cose irrisorie a coprire e quindi questi soldi chi li tira fuori di solito è la franca che li tira fuori franca quindi tu da quando ti occupi di questi animali quindi veramente da tantissimi anni sei ti sei trovata a dover sempre fronteggiare uno stato di continua emergenza perché ogni abbandono è un'emergenza ogni caso di maltrattamento un'emergenza e tu cerchi di fare tutto il possibile per porvi rimedio e ora in attesa che la situazione la tua situazione per esempio possa trovare anche una buona soluzione per quanto riguarda il terreno le migliorie che ci auguriamo il comune ti aiuti a fare e le istituzioni ti aiutino a fare in attesa di questo io credo comunque ci sia penso concorderai con me la necessità proprio di un cambiamento nella coscienza delle persone perché quella del randagismo è una piaga anche nella nostra regione che comunque un'isola felice se guardiamo tutta l'italia sicuramente lo è però comunque una piaga anche qui e quando poi si parla di gatti è ancora più una piaga perché ce ne sono veramente tanti e ci sono tantissimi tantissimi abbandoni ecco tu come vedi questa cosa quale rimedio vedi e quali prospettive vedi per il futuro anche tuo della tua attività ma soprattutto proprio per la risoluzione di questa piaga allora secondo me diciamo che la dingo è nata per gli animali in difficoltà invece si ritrova da aprile fino a novembre ad acudire cucciolate di privati che abbandonano da noi o in giro nei cassonetti perché non sterilizzano le gatte quindi tutto qua il problema la piaga è questa perché poi diciamo che da novembre fino a marzo gli abbandoni sono pochissimi difatti a me piace molto di più l'inverno abbiamo dei casi sì ci sono dei casi ma molto limitati di gatti adulti magari di gatti adulti ammalati tipo con l'AIDS perché questo è successo l'anno scorso che ci hanno abbandonato gatti ammalati perché invece di curarli e di tenerli a casa fino alla morte li abbandonano ecco la gente fa anche questo comunque la piaga più grande è proprio perché non vengono sterilizzate le gatte quindi dovrebbe esserci la legge che prevede la sterilizzazione anche per i gatti di casa invece non c'è e quindi la gente sì non si dice tutti naturalmente perché c'è chi sterilizza non sterilizza le gatte diciamo che le istituzioni dovrebbero essere più presenti perché quando vengono abbandonate queste cucciolate in fondo arrivano alla dingo o arrivano in altri posti quelli che si riesce a salvare e poi il comune deve sterilizzarli a spese sue quindi diciamo facciamo una campagna di sensibilizzazione intanto nelle scuole ma poi proprio una campagna massiva di sensibilizzazione della gente che deve sterilizzare cioè ti prendi l'impegno prendi un animale poi devi sterilizzarlo noi della dingo facciamo subito la domanda alla persona quando noi diamo in adozione un gattino e magari prendono la femmina a parte che bisogna sterilizzare maschi e femmine se qualcuno li vediamo titubanti no ma io non sterilizzerei allora gli dico vada altrove io animali a lei non glieli do proprio noi non li diamo a chi non sterilizza e dopo cerchiamo anche di seguire la cosa nei limiti perché ne diamo via tanti però di seguire vedere se sono stati sterilizzati così insomma e diciamo che noi noi si li diamo in adozione con i dovuti modi tante volte preferisco tenermeli cerco di non dare via animali che hanno problemi li do via sempre che siano vaccinati che siano curati che stiano bene poi ci succede che e anche scriviamo sul nostro certificato cosa devono dar da mangiare così ci succede che ogni tanto ci torna indietro l'animale perché sta male perché ha la diarea così un caso eclatante è una gatta che io ho a casa e che mi è stata riportata dopo quattro mesi bella tigrata pelo lungo quindi preso la gatta perché era bella e praticamente lei aveva una diarea terribile la gatta era morente perché gli dava gelato gli dava merendine gli dava dolci tutto quello che capitava da una bambina la bambina il gatto mangiavano uguali poi me l'ha riportata questo è un caso ma ce ne sono tanti casi. Franca per noi è stato importante ed è importante parlare con te e far conoscere quella che è la realtà del rifugio d'Ingo anche perché se ne sa sia Pordenone lo conoscono tutti però io credo che da parte di tante persone di tanti cittadini ci sia anche un po' la pretesa che il vostro rifugio si faccia carico di tutti i casi di abbandono e anche da parte di cittadini che magari sono stanchi di avere il gatto e che vogliono disfarsene questa cosa la trovo profondamente ingiusta perché e lo dico io al posto tuo perché è giusto che sia così la trovo ingiusta è perché voi svolgete un lavoro che si basa al 100 per cento sul volontariato senza scopo di lucro da sempre tu hai sacrificato veramente la tua vita per questi animali e non ti sei mai voltata dall'altra parte però non è neanche giusto che ci sia veramente la pretesa di delegare a te quello che dovrebbe fare il senso civico di ogni cittadino anche con l'aiuto delle istituzioni con una campagna di sensibilizzazione eccetera quindi è importante parlare con te e far conoscere il tuo rifugio più che altro per far capire alle persone di darvi una mano e darvi una mano significa anche farsi anche carico come cittadini della responsabilità di un'adozione che è un impegno a vita e laddove si dovessero trovare ci si dovesse imbattere in casi di abbandono farsene anche carico come te ne fai carico tu e non sempre portare tutte queste casistiche alla tua attenzione perché siete in una situazione in cui avete voi bisogno di aiuto proprio per tutelare gli animali di cui vi occupate quotidianamente oltretutto la vostra è una situazione delicata per cui non potete comunque più prendere animali dovete farvi carico di quelli che avete continuare il vostro lavoro nel migliore dei modi non nel limite del possibile certamente non voltandovi dall'altra parte neanche voi perché non lo fareste mai e questo è molto chiaro però neanche ripeto tamponando le situazioni di emergenza anche create diciamo dall'inciviltà di tante persone purtroppo ecco questo è l'appello che io voglio fare io desidero che il vostro rifugio sia conosciuto e che sia visto per quello che è cioè per il suo ruolo veramente importante che ha avuto in tutti questi anni e che continua ad avere io mi auguro che un po' con l'aiuto della nuova legge regionale un po' con lo sbloccarsi di alcune situazioni di stallo a livello economico che poi sono legate al progetto che vi riguarda io mi auguro appunto che con l'aiuto di tutte queste circostanze che vadano poi a buon fine la vostra realtà continui meglio, sempre meglio e che vi si dia veramente una mano per permettervi di continuare il vostro preziosissimo lavoro perché come è stato detto da qualcuno prima di me e io lo sottoscrivo se non ci foste bisognerebbe inventarvi cioè se non ci fosse la dingo bisognerebbe inventarla e chi è di Pordenone lo sa ecco io vorrei concludere questa chiacchierata con te con questo messaggio e noi avremo sempre piacere di venirti a trovare di far conoscere quello che tu fai e che le tue volontarie fanno per questi animali e ti ringraziamo dell'occasione che ci hai dato di parlare con te io vi ringrazio di essere venuti e volevo dire per tutti quelli che magari chiamano che hanno dubbi che la dingo non chiude almeno finché io sarò sana di mente e potrò fare qualcosa non chiuderà perché siccome da più parti mi viene sempre chiesto questo dopo i video che ci sono stati e gli articoli sul giornale ma la dingo per adesso non chiude grazie 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 grazie